Ciao, oggi ti mostro come preparare i Gufo Muffin. In una ciotola mescolo tutti gli ingredienti secchi, cioè la farina, lo zucchero di canna, il lievito, il bicarbonato ed il cacao. Mescolo. In un piatto invece amalgamo gli ingredienti liquidi, cioè l'uovo, l'olio ed il latte. Misco i due composti, tenendo così un impasto omogeneo, a cui aggiungo le gocce di cioccolato. Verso nei pirottini. E cuocio nel forno preriscaldato a 180 gradi per circa 20 minuti. Fai la prova dello stecchino per verificare se sono cotti. Intanto preparo i frosting, versando lo yogurt in un piatto. Con il cacao. E mescolo fino ad ottenere una crema. Con cui ricopri i muffin e che ho fatto prima raffreddare. Decoro con i biscotti che ho realizzato con dell'impasto eccedente e con del cocco grattugiato. Spolverizzato sulla superficie, che ho cotto per 15 minuti. A 180 gradi. In alternativa utilizzate dei biscotti tondi. E con un pinolo per creare i nasi. Divertiti a crearle con i tuoi bimbi per allogu e vedrai che spasso. Iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto. Vieni a me a trovare sul mio blog. E se la ricetta ti è piaciuta, condividila sui social. A presto con un nuovo video. A presto con un nuovo video.